Brexit is Brexit, diceva fino a poco tempo fa Boris Johnson, col sorrisetto di molti maggiorenti dell'Unione Europea che non credevano che fosse possibile per uno Stato membro dell'Unione Europea uscire dal consorteria dei 28 Stati del vecchio continente. Però alla fine c'è riuscito e tutti quelli che gli preaconizzavano disfatte, sfracelli, problemi sociali, crisi economiche dicendo, devono ricredersi. Probabilmente l'unica cosa di cui Johnson non sarà affatto contento è la perdita infini, proprio ai rigori del campionato europeo, una partita, un titolo per cui lui e tantissimi altri britannici ce ne tenevano come poco altri nel mondo. Cari amici vicini e lontani, bentornati allo schiacciassassi da parte di Stefano Vellina e se starete con noi fino alla fine della puntata vedrete anche come la graffiante matita di Domenico Lacava interpreta i fatti di domenica con la fine del campionato mondiale di calcio, che hanno anche ovviamente una ricaduta politica non trascurabile. Che si diceva della Brexit? Tutti dicevano che, preconizzavano che la Gran Bretagna sarebbe andata di male in peggio, però a vedere quello che è stato i primi sei mesi di questa uscita che è stata formalizzata alla fine dell'anno scorso, i numeri parrebbero dare invece molta ragione a Johnson perché la crescita dell'Unione Europea è superiore a quella media del continente e soprattutto ha messo insieme una serie di iniziative politiche per rilanciare quello che era il vecchio Commonwealth, il vecchio sistema di dominio della Gran Bretagna sui paesi di mezzo mondo dove la regina è ancora formalmente il capo degli stati che aderiscono al Commonwealth, per poter tessere la sua rete commerciale. Una rete commerciale che probabilmente è anche superiore a quella stessa di cui poteva disporre all'interno dell'Unione Europea, col vantaggio che il Commonwealth ha sicuramente una regolamentazione molto meno farraginosa e molto meno stringente rispetto a quella europea. Gli esempi sono sotto gli occhi di tutti, si va dalla regolamentazione della lunghezza del fagiolino, della carota, del pisello, per non parlare adesso dei temi della transizione energetica dove l'Unione Europea probabilmente con un sentimento di auto da fè pochi come pochi nel mondo vuole diventare la prima della classe ad essere una realtà ad impatto zero dal punto di vista dell'inquinamento climatico. Progetti belli, condivisibili dicendo, ma c'è un ma che è quello delle ricadute economiche e sociali di una decisione del genere che alla fine della fiera, se guardiamo i numeri effettivi, non ha nessuna giustificazione, visto che l'Unione Europea nel suo complesso pesa solo per l'8-9% massimo di tutte le emissioni di gas climateranti del mondo. Che dire allora di quello che sta facendo l'India, un miliardo e passa di persone, la Cina un miliardo e mezzo che continua a inquinare e soprattutto a utilizzare grandemente per il suo sviluppo e per la sua economia il carbone, che qua più o meno è bandito, però è bandito fino a un certo punto, perché se in Italia protestiamo perché utilizziamo il gas metano per produrre energia elettrica, figuriamoci che allora dovrebbe venire fuori in Germania, dove hanno rilanciato in grande stile l'utilizzo del carbone e soprattutto della pessima lignite autarchica di cui dispongono. Uno dei peggiori sistemi per fare energia e soprattutto per poter inquinare l'ambiente, però nella Germania nessuno dice, anzi tutti zitti e contenti, perché si punta a tutto volume, a tutta pressione sull'elettrificazione. Che l'elettrificazione non è altro che spostare l'inquinamento dall'utilizzo alla generazione e poi con tutto quello che c'è dietro per quanto riguarda l'utilizzo e la produzione delle batterie e quant'altro che non sono sicuramente gratuite e non sono sicuramente ad impatto zero. Dicevamo appunto della vignetta, di come vede il nostro Domenico Lacava e tutta questa situazione. Vediamo appunto che Boris viene accompagnato all'uscita, un'uscita contrassegnata da una bandiera italiana e con il sorriso compiaciuto dell'Europa, tant'è vero che c'è un 12 stelle che sorridono, mentre Boris che aveva puntato grandemente sulla vincita del titolo esce maramente con il pallone sotto braccio come tanti bambini che quando non vincono portano via il pallone. Vedremo come andrà a finire, di sicuro intanto la partita è stata vinta, bisognerà vedere adesso cosa succederà anche in Italia perché nel ricaduto di questa partita ci sono tanti che vorrebbero l'allenatore della nazionale come candidato prossimo premier ma magari anche presidente della Repubblica perché l'Italia è il solito paese del pallone, che vive nel pallone. Cari amici vicini e lontani, grazie per essere stati con lo schiacciassassi da parte di Stefano Elena, una richiesta di iscrivervi al nostro canale, più tanti siamo più meglio è, ci date la forza per poter andare avanti come una voce autonoma, indipendente ed autorevole. Intanto un saluto e un arrivederci alla prossima puntata, ciao!